Anche Roma, anche la capitale, sembra essere dentro una bolla. Le immagini che state vedendo sono state girate in queste ore, dopo le 14, 14.30 di oggi, di oggi il Seifo. Quindi ore di punta. Le strade sono assolutamente deserte, si impiega nulla per girare Roma e questo è comunque un buon segno, evidentemente la gente ha capito o comincia a capire che bisogna stare a casa. Almeno la metà delle persone in giro, pochissime, davvero quasi nessuna, indossa la mascherina, vedete, vedete, io stesso. E si finge probabilmente che tutto sia uguale, che la vita vada avanti nello stesso modo, ma palesemente non è così. Grazie a tutti.